Allora, i cittadini hanno costruito insieme questo spettacolare dispositivo di allenamento per l'agilità anti-Tentacular conosciuto come le Porche Caudine del Destino! Un gran brutto nome. Nessuno dei vecchi incontri si avvicina a 3 round con Tentacular però avremo una possibilità se sopravvivrai alle forche e raggiungerai la statua di mio padre. Oh oh. D'accordo, piedini di fata. Metti le scarpette rosse. Si balla! Di nuovo! La cosa importante da fare è neutralizzare la più grande minaccia di Tentacular. Il suo gancio destro. No, lo dice il suo nome. I tentacoli, lo stavo per dire, i tentacoli. Devi usare l'esperienza degli incontri illegali e tutti i passi che hai imparato attraverso il ballo e di cui ti vergogli. Avanti! Tutte le finte è il Foxtrot! Cattando sotto la pioggia! Bruco! Breakdance! Dicono che la miglior difesa sia l'attacco. No! E la difesa è la miglior difesa! Non deve essere bello a vedersi. Deve portarci alla fine del terzo round. No, è bello! Sopravvivrò! Ah, non sei ancora arrivato! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Sono pronto, adesso? Sei pronto, Rayburn.